Qualche anno fa è stata la volta di Berlusconi che ha accusato, pensate che cosa si è rinventato, ha accusato i comunisti delle Guardie Rossi in Cina di aver mangiato i bambini. Ah no, non si poteva dire, era una follia tale che solo un cervello malato come quello di Berlusconi poteva contemplare. Oggi sul giornale c'è un lungo articolo di Lutwak, che è un commentatore americano molto influente e conosciuto, che scrive così a proposito della rivoluzione culturale che Mao scatena in Russia e in Cina nel 1966. Scrive Lutwak, più di 36 milioni di persone hanno sofferto o sono morte all'epoca di Mao, compresi coloro che sono stati affettati, grigliati e mangiati nella regione autonoma dello Guangxi. Chissà se anche oggi ci sarà qualcuno che grida alle follie che documenta Lutwak. Certo, sono passati un po' di anni, Berlusconi è morto e poi soprattutto un po' di studi storici hanno chiarito qualche aspetto, qualche limitato aspetto di quell'orrore che è stata la rivoluzione culturale cinese.